ciao federalisti europei penso che oggi sia il giorno il tempo proprio per continuare a pensare a quello che è il sogno dell'unione europea della federazione europea subito e debbano tornare a farlo i giovani le generazioni erasmus quelle che stanno sentendo maggiormente il peso di un'europa che non riesce a rispondere ai bisogni degli stati nazionali ecco è proprio il caso di dire federazione europea subito a 70 anni dalla dichiarazione schumann dobbiamo tornare a fare questo grande sogno il sogno della nostra generazione